Oggi vedremo il teorema di Fermat, sia l'enunciato che la dimostrazione. Sia f di x una funzione, sia a b un intervallo chiuso e limitato, sia x con 0 un punto di massimo o di minimo relativo per la nostra funzione f. Allora, se f di x è derivabile nel punto x con 0, sicuramente la derivata prima in x con 0 è uguale a 0. Questo è l'enunciato del teorema. Devo avere quindi una funzione, un intervallo chiuso e limitato, un punto di massimo o di minimo relativo. Se la funzione è derivabile in x con 0, allora la derivata prima in x con 0 è uguale a 0. Quindi ho una tangente orizzontale nel punto x con 0. Per la dimostrazione supponiamo che in x con 0 ci sia un punto di massimo relativo. La dimostrazione è analoga con il punto di minimo. Per definizione di punto di massimo significa che esiste un intorno di questo punto x con 0 all'interno del quale, qualunque x prendo, la f di x con 0, cioè la y del punto x con 0, è maggiore o uguale alla y del punto x, quindi a f di x. Secondo passaggio, calcolo il rapporto incrementale nel punto x con 0. Ricordiamoci che il limite del rapporto incrementale in un punto è proprio la definizione di derivata prima nel punto e mi dà il coefficiente angolare della retta tangente nel punto x con 0 alla funzione. Il rapporto incrementale è dato da f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0. Come promesso andiamo a vedere un disegno che rappresenti la situazione del punto 1 e dell'enunciato del mio teorema. Abbiamo la nostra funzione arancione, il punto x con 0 è il nostro punto di massimo, la tangente nel punto x con 0, una tangente orizzontale, vorremmo proprio dimostrare che la derivata prima è x con 0 uguale a 0 e prendiamo un punto x vicino a x con 0. Come vedete la y del punto x, cioè f di x, è sicuramente più bassa della f di x con 0, proprio per definizione di massimo, e questo spiega la disequazione del passaggio 1. Come terzo passaggio vogliamo andare a studiare il segno del rapporto incrementale che abbiamo fatto, quindi vedere se è positivo o negativo, nell'intorno ovviamente del punto x con 0. Quindi, se x è maggiore di x con 0, che cosa succede? Io ho f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0. Se x è maggiore di x con 0, abbiamo detto, io ho il numeratore negativo e il denominatore positivo, perché nel numeratore sappiamo dal punto 1 che la f di x con 0, che ha davanti il segno meno, è maggiore della f di x, mentre il denominatore, essendo per ipotesi x maggiore di x con 0, è un denominatore positivo, quindi il segno di quella frazione è minore o uguale a 0. Se invece x è minore di x con 0, questa frazione ha sempre un segno negativo al numeratore, ma un segno negativo anche al denominatore, quindi il rapporto incrementale ha segno positivo o nullo. Come quarto passaggio andiamo a calcolare il limite per x che tende a x con 0 di entrambi i rapporti incrementali. Quindi che cosa troviamo? Troviamo la derivata destra e sinistra di x con 0. Quindi il limite per x che tende a x con 0 del primo rapporto incrementale risulta f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0 è la derivata prima destra di x con 0 ed è minore di 0, come abbiamo visto. Se adesso calcolo il limite per x che tende a x con 0 meno del nostro rapporto incrementale, questa è la derivata prima sinistra di x con 0 e è maggiore o uguale a 0. Per ipotesi però la nostra funzione è derivabile in x con 0, ma dire che è una funzione derivabile in un punto significa che esiste la derivata, cioè il limite destro e il limite sinistro coincidono tra di loro. L'unico modo quindi affinché questi due limiti siano uguali è che siano uguali a 0. Da qui abbiamo quindi la tesi. f primo di x con 0 è uguale a 0 se x con 0 è un punto di massimo relativo. Dimostrazione analoga se consideriamo x come un minimo relativo, semplicemente il punto più basso in quell'intorno. Con questo ragazzi abbiamo dimostrato il teorema di Fermat e per oggi abbiamo finito. Spero che sia tutto chiaro, altrimenti scrivetemi nei commenti. Iscrivetevi al canale, vi abbraccio, rimanete con me e buona matematica!